Il dato che ci preoccupa è uno che nel discorso della razionalizzazione, almeno per quello che ancora è una bozza di proposta, noi potremmo rischiare di perdere delle specialità. Non perdiamo posti letto, ma questo è molto relativo al discorso di non perdere posti letto. Essendo previste un numero di posti letto adeguato per alcune specialità, una volta che i primari che attualmente ricoprono questi ruoli saranno collocati in pensione, non ci sarà più la possibilità di coprirli con un primario, cioè con un direttore di unità operativa. Questa è una cosa grave, perché oggi quello che si chiede alla sanità sono le prestazioni specialistiche. Non è solo quantità, ma è qualità. La qualità la fanno chiaramente le specialità, considerando anche il fatto della grossa migrazione sanitaria che noi abbiamo come Regione Gambania, proprio per il ricorso alle varie specialistiche. Quindi questo può regare veramente un danno enorme per il territorio. E questo è quello che dobbiamo scongiurare. Dobbiamo, se così è, se fosse vero, noi dobbiamo mobilitarci tutti. Ecco perché questa mattina, su input del consigliere regionale Donato Pica, noi siamo qui a discutere di questa problematica.